Siamo al lancio di Cuore Resiliente, il progetto che si occupa della sicurezza idrogeologica dei territori trasfrontalieri, a ridosso di alcune giornate veramente impegnative dal punto di vista meteorologico per piogge e anche rischi ovalanghe. Qual è il valore aggiunto di questo progetto? Innanzitutto Città Metropolitana oggi e provincia di Torino prima hanno sempre portato questo tipo di iniziative come iniziative strategiche per rendere sicuro il territorio. La resilienza, quindi la capacità di resistere di un territorio rispetto a quello che sono i cambiamenti climatici è diventato un obiettivo non più trascurabile. Bisogna investire, bisogna investire nel tempo, nella formazione, nel rendere sicuri i nostri territori che sono sede di microeconomie come può essere gli impianti sciistici, microeconomie che sono le nostre più preziosi fonti economiche di sostentamento dei nostri comuni e del nostro territorio.